Musica ...di presentare una personalità molto, molto grande, una scienziata, professoressa, adesso c'ho anche Morrone, c'ho Maria Concetta Morrone, però prima di parlarvi un pochino della professoressa, voglio presentarmi anzitutto e portare anche i saluti di questa città che accoglie la settimana della scienza e queste conferenze. Sono Rosa Sbacchi, sono un dirigente scolastico di un istituto comprensivo e trovo questa serata per me molto interessante, poiché il tema è un tema che riguarda direttamente la scuola e la coinvolge appieno. Porto i saluti anche degli organizzatori della festa della scienza, perché comunque sono impegnati in altre situazioni. Qualcuno di voi ieri sera ha assistito al momento dell'inaugurazione e ha capito e ha conosciuto, oppure anche attraverso i mezzi divulgativi, la complessità di queste giornate. Diciamo che io cercherò brevissimamente di raccontarvi qualcosa sulla professoressa, ma sono notizie che comunque ho tratto da internet, non mi sono assolutamente inventata niente. Quindi poi la professoressa esporrà la sua conferenza e poi ci potrà essere spazio anche per degli interventi da parte del pubblico. Diciamo che dal punto di vista della mia professione di donna di scuola e per la scuola trovo il titolo di questa conferenza Spazio, tempo e numero nel cervello estremamente intrigante, ma uso una parola leggera nel dire questo. La trovo estremamente importante perché sono tre delle quattro categorie, l'altra è il linguaggio, ma è una divisione puramente formale e di comodo quella che si va a fare, che costituiscono i capisaldi dell'apprendimento. Quindi parlare di concettualità, quale lo spazio, il tempo e il numero in campo dell'educazione, soprattutto per la sottoscritta che si è occupata di scuola primaria, è una bella e interessante soddisfazione e sentirla raccontare. Io credo che dalla conferenza di questa sera chi è persona di scuola o chi si interessa comunque rispetto diciamo alla tematica dell'insegnamento-apprendimento possiamo raccogliere o dovremmo raccogliere tre sfide che è quella della progettazione dell'insegnamento-apprendimento dell'approccio verso l'insegnamento-apprendimento avendo poi delle conoscenze scientifiche e diciamo delle sperimentazioni ad hoc. L'altra è quella della sfida nel campo medico-diagnostico e anche riabilitativo, soprattutto di una riabilitazione precoce perché sappiamo quanto alcuni difetti, alcuni piccoli difetti della vista che lì per lì magari non sono diagnosticati poi comportano lo strutturarsi di concetti spazio-temporali estremamente sbagliati oppure deficientari. L'altra sfida credo che sia quella della tecnologia e di strumenti che vanno a supporto di divisioni artificiali e quindi per la progettazione di interfacce uomo e artefatti. Parlando della professoressa Maria Concetta Morrone diciamo che è doveroso presentare in breve linee il suo curriculum si è laureata nel 77 in fisica presentando una tesi sperimentale in neuroscienze sulla selettività neurale della corteccia visiva dei mammiferi ha affrontato studi personali e li affronta tuttora, tanto è vero che sono 138 pensate le sue pubblicazioni e questo è il numero al 2011 quindi con molta probabilità è un numero ormai inesatto. Le tappe più importanti del suo percorso formativo sono un perfezionamento in biofisica presso la scuola normale superiore con un lavoro sperimentale rivolto allo studio dei meccanismi non lineari dei neuroni visivi nel mammifero e una lunga permanenza di circa 5 anni presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Western in Australia dove si è rafforzato l'interesse per la comprensione dei meccanismi percettivi e la loro simulazione con metodi matematici e computazionali. Nel 1987 è ritornata in Italia si è stabilita a Pisa dove ha continuato la propria attività di ricerca prima come ricercatore della scuola normale superiore nel settore B01, Fisica Generale e in seguito come primo ricercatore dell'Istituto di Neurofisiologia del CNR. In questo periodo ha continuato a approfondire gli studi sul sistema visivo rafforzando l'approccio interdisciplinare con l'applicazione di metodologie diverse da quelle classiche di elettrofisica e psicofisica a quelle più recenti di modellistica matematica di informatica, di intelligenza artificiali e di imagining funzionali. Ha avuto molti incarichi scientifici ed amministrativi e merita ricordare l'attività che ha portato alla realizzazione dell'Istituto di Neuroscienze del CNR. Nel 2000 è diventato professore ordinario di psicologia del gruppo disciplinare MPSI02 presso la Facoltà di Psicologia della Libera Università Vita Salute San Raffaele e ha fondato un corso di laurea specialistica in neuroscienze cognitive col professor Boncinelli che sappiamo essere la mano destra per la realizzazione di questa settimana della scienza. Nel 2008 diventa professore di fisiologia umana presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Pisa. Di che cosa si occupa la sua attività di ricerca? Soprattutto riguarda tutto lo studio di quei meccanismi neuronali nell'uomo per l'esplorazione e la rappresentazione dello spazio del tempo. In particolare ha studiato come il cervello possa conferire stabilità percettiva al mondo nonostante questo sia percepito con delle piattaforme straordinariamente mobili come gli occhi. Gli studi effettuati mostrano una forte interazione tra lo spazio e il tempo percepito analogamente ai fenomeni di fisica. Potrei continuare a leggere ancora diciamo delle sue ricerche ma credo che poi nel corso della conferenza gli aspetti salienti si snoderanno. Per cui ritengo che concludere dicendo che ha avuto molti riconoscimenti e ha anche coordinato numerosi progetti sia in ambito di robotica che di neuroscienze vuoi a livello nazionale che europeo. Un buon ascolto. Prego. Grazie allora grazie per la presentazione si sente? Sì? Io appunto parlerò quando il professor Boncinelli mi ha invitato a questo festival o a questa festa della scienza come lui chiama mi ha chiesto di parlare specificatamente di questo argomento che è appunto l'argomento della stabilità visiva non so spero che non risulti troppo difficile cercherò di usare un linguaggio molto facile e se ci sono problemi se non mi capite se qualche congetto è molto scuro vi prego fermatevi non è importante arrivare in fondo quando dare un po' l'idea di come il cervello possa o i meccanismi che il cervello utilizza per conferire questa stabilità percettiva ok vediamo un po' ma che cos'è la stabilità percettiva noi il vedere il percepire per noi è una proprietà è una funzione estremamente facile ma ingannevolmente facile nel senso che di fatti per percepire per vedere questo mondo così ricco il cervello lavora continuamente ogni istante utilizzando risolvendo problemi che sono molto complessi e in modo particolare non solo per fare compiti difficili come vedere i piccoli dettagli o i compiti che si affrontano durante la lettura per esempio ma anche compiti più generali è più semplice come localizzare un oggetto nel mondo esterno sembra facile e raramente sbagliamo la posizione di un oggetto nel mondo esterno quello speaker in quella direzione sia se lo guardo direttamente sia se lo guardo giro lo sguardo e quindi lo guardo con la periferia eppure questo non è assolutamente facile è un compito abbastanza difficile e perché e perché è difficile beh andiamo al problema il problema è che noi guardiamo il mondo attraverso dei sensori che sono che è la nostra retina questa è una foto della retina quindi la luce l'immagine esterna viene proiettata su questa membrana fotosensibile e di fatti se noi volessimo avere una visione molto ricca altissima definizione in tutta la posizione di questa retina quindi se vedere il mondo con altissima definizione avremo bisogno di una telecamera l'equivalente di una macchina fotografica di un gigapixel una cosa enorme impossibile inoltre il nervo ottico dovrebbe essere grande spesso quasi come la proposta di un elefante impossibile non possiamo mai fare una cosa del genere allora la natura che ha fatto ha fatto un disegno molto intelligente ha messo ha sviluppato solo una piccola parte della retina la fovea che è altissima definizione e poi tutto il resto della fovea invece ha una bassa risoluzione come se al centro abbiamo dei pixel della macchina fotografica molto piccoli e in periferia utilizzassimo dei pixel molto grandi però questo qual è il problema? questo ci pone un problema perché significa che noi riusciamo a vedere i dettagli solo col centro come facciamo ad avere una visione così ricca di questo mondo invece? beh dobbiamo siamo obbligati a muovere lo sguardo quindi quello che si fa noi muoviamo continuamente lo sguardo e lo muoviamo con estrema efficienza senza neanche esserne cosciente giusto per darvi un esempio guardiamo questo è un quadro di un artista olandese che partecipava a una scuola appunto di arte e visione è un quadro astratto e tutte queste linee blu sono tutti i punti in cui lo sguardo stesso dell'artista veniva si soffermava ogni volta che osservava il quadro quindi lei muoveva gli occhi in questa direzione si fermavano muovevano muovevano e noi facciamo 3-4 movimenti oculari al secondo e ogni volta che ci fermiamo ci fermiamo per brevissimo tempo 100 millisecondi in quei 100 millisecondi prendiamo assorbiamo la ricchezza della scena visiva bene la cosa sorprendente è quando a quest'artista gli è stato chiesto ma come va osservato questo quadro per vederne la bellezza e lei ha detto beh senza mai muovere lo sguardo io non muovo mai lo sguardo perché va visto in una forma un po' olistica bene vuol dire che lei anche se significa che era totalmente ingosciente di tutti questi movimenti che si fa quindi ogni volta che noi muoviamo gli occhi di fatti l'immagine sulla retina si muove come in questo caso ogni volta che noi muoviamo osserviamo questa diapositiva noi muoviamo l'immagine sulla retina si muove però noi non vediamo un movimento di fatti noi prendiamo dei dettagli molto fini nel punto in cui è posizionato la fovea tutta l'immagine è abbastanza sfocata l'informazione che arriva proprio sulla retina è questa cioè ogni volta che muoviamo gli occhi e lo possiamo per esempio sulla torre abbiamo questa informazione nei movimenti precedenti faccio ripartire per esempio abbiamo questa 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 informazione mi capite mi seguite ogni volta che io muovo gli occhi acquisisco una nuova immagine però io non vedo questa sequenza di immagine io vedo piazza dei miracoli sapendo che la torre è lì il campanile da questo lato e così via e come è possibile cosa succede nel nostro cervello affinché io riesca a vedere a ricostruire il mio senso di spazio da tutti questi piccoli frangobolli centrati su dettagli e questo è il problema della stabilità percettiva perché questo non è solo nella retina per come è costruito il nostro sistema visivo e questo non so quanta informazione voi ha insomma ma non è per come è costruito il nostro sistema visivo l'immagine come viene proiettata sul fondo dell'occhio sulla retina viene con qualche altra addizionale distorsione che non è importante viene trasmessa al cervello alla corteccia posteriore quindi anche il cervello quello che vede sono tutti questi snapshot e da questi snapshot noi dobbiamo ricostruire l'immagine e non dobbiamo e non vediamo il movimento e generiamo un senso di visione estremamente stabile questo è il problema della stabilità percettiva che io ne parlo per la visione ma lo stesso problema esiste per l'acustico lo stesso problema esiste quando per esempio manipolo un oggetto questa bottiglia è sempre la stessa indipendentemente da come la manipolo quindi è un problema generale del nostro cervello del nostro sistema percettivo è una domanda che è interessato tutti da Alazan nella scuola Alessandrina che è l'inventore della camera scura fino a Helmuth fino ai tempi più recenti ora e quindi com'è che vengono com'è che il cervello lo risolve beh recentemente negli ultimi 20-30 anni abbiamo delle informazioni in più non sappiamo la ricetta finale ancora non sappiamo i meccanismi esatti per cui io non vi dirò esattamente come funziona vi posso solo dimostrare quanto complesso sia il problema e come e quale può essere la strategia utilizzata dal nostro cervello senz'altro una strategia è quella di dire io non rispondo ogni volta solo alla retina man mano che però genero assorbo questa informazione la vado a depositare in una mappa che non si muove con gli occhi ma si muove col mondo esterno ma è solidale col mondo esterno vi faccio un esempio per farvi capire al buio quando io giudo gli occhi so che la bottiglia è in questa posizione se io mi giro la bottiglia continua ad essere in questa posizione che ho fatto costruito una mappa del mondo esterno nella mia testa nella mia memoria ora però questo è un fenomeno che esiste solo nella memoria o esiste anche nella visione beh una cosa del genere esiste anche nella visione lo usiamo anche per vedere e vi faccio vedere le poche cose che sappiamo cioè come di fatti quello che sappiamo che chi ha cominciato questa storia sono dei elettrofisiologi della scuola di Bologna nel 93 e aveva visto che ci sono dei neuroni dei circuiti all'interno della nostra testa che sono sensibili a uno stimolo visivo indipendentemente da se veniva questo stimolo veniva osservato guardando a sinistra o a destra cioè c'è un neurone che risponde alla bottiglia sia quando la guardo direttamente sia quando guardo lì risponde solo alla bottiglia sia quando guardo nell'altra direzione e continuo a rispondere solo alla bottiglia quindi in qualche modo si è liberato da questa architettura del sistema visivo che raccoglie informazioni dalla rete in una maniera così organizzata e ha generato dei campi recettivi che sono solidali col mondo esterno ovviamente sono cambi recettivi grossolani che ci tendono di dire solo la bottiglia in quella posizione non ci dicono che sull'etichetta è scritto conad e così via sono indicatori di posizioni ma queste nella scimmia esistono anche nell'uomo e questo si può fare ora utilizzando queste tecniche da cui si riferiva prima la signora Smacchi che sono queste tecniche di imaging funzionale e come funzionano funzionano in una maniera abbastanza facile il soggetto questo tra l'altro è mio figlio un po' di anni fa quando abbiamo cominciato questi lavori nel lontano 2000 viene inserito in uno scanner di risonanza magnetica funzionale e noi cosa abbiamo fatto abbiamo presentato degli stimoli quando il soggetto fissava in questo punto in questo punto in questo punto e ci siamo chiesti ma quale parte del cervello risponde a questa barra questi puntini che si muovono indipendentemente se il soggetto fissa qui fissa qui o fissa qui cioè quale parte del cervello ha questa mappa che è solidale col mondo esterno e non con i miei occhi bene abbiamo fatto sui sperimenti complicatissimi in cui vi do solo il risultato finale e abbiamo visto di fatti che esiste una mappa che c'è un pezzettino di cervello che risponde che costruisce la posizione dello stimolo nel mondo esterno ed è quest'area che si chiama medio temporale la cui risposta dipende solo dalla posizione dello stimolo appunto nel mondo esterno e quindi forse anche il cervello umano utilizza una strategia per localizzare gli stimoli nel mondo esterno ma è solo per localizzare tutto il polo visivo cioè il cervello che ci serve che utilizziamo per vedere praticamente tutto questo polo cipitale e quest'area è molto vicina è proprio all'interno del polo quindi non è che probabilmente la utilizziamo solo per vedere ma forse anche per fare qualche altra cosa e di fatti noi sappiamo che quest'area ci permette che questo ora andiamo un po' sul tecnico però tramite questo pezzo di aria noi vediamo il movimento degli stimoli e continuiamo a integrare informazione del movimento di come si muove per esempio questa macchina che viene verso di noi sia quando guardo direttamente la macchina sia quando guardo di lato e noi continuiamo a elaborare informazione di quel movimento durante tutto il tempo quindi non solo i 200 millisecondi di fissione ma per secondi appunto per ottenere una buona analisi del sistema visivo quindi quest'area e questa mappa spaziotopica noi diciamo così serve anche per vedere non solo per posizionare gli oggetti e di fatti serve anche per un'altra cosa questa è una cosa che ci ha sorpreso molto serve per valutare il tempo visivo ora a differenza del vedere che abbiamo i fotorecettori o del tatto che abbiamo i meccanorecettori per percepire il tempo noi non abbiamo recettori specifici il tempo è una di queste dimensioni un po' strane ne sappiamo veramente pochi noi che lavoriamo i neuroscienziati ne sanno veramente pochi però una cosa sappiamo che il tempo deve essere legato fortemente dal sistema motorio cioè se il sistema motorio non avesse un buon accesso all'informazione del tempo quando succede una cosa noi non riusciremo mai a a prendere un oggetto non riusciremo mai a muoverci probabilmente non riusciremo nemmeno a tenere la postura quindi il sistema motorio e il nostro senso di tempo sono due argomenti due proprietà che devono lavorare insieme e di fatti può anche succedere che il sistema motorio possa alterare il nostro senso di tempo e di fatti il nostro senso di tempo è un senso altamente adattabile è raro che noi il nostro senso di un secondo sia sempre un secondo noi spesso quel secondo cambia secondo se siamo per esempio molto intendi a fare un lavoro e questa esperienza è normale se siamo molto concentrati ma il tempo il fluire di un secondo lo sentiamo diversamente anche vi farò degli esempi anche dal contesto se la stanza è piena di persone che si muovono o se la stanza invece è quieta quindi il nostro senso di tempo è un senso estremamente adattabile ma che significa adattabile questo ve lo dimostro abbastanza facilmente perché l'adattamento è uno dei meccanismi fondamentali del cervello ed è fatto è una proprietà di base così forte perché ci serve per analizzare in maniera ottimale l'informazione ora questa è un'immagine bianca e nero giusto? vi chiedo di guardare per un per un qualche stante questo puntino nero guardate solo lì per qualche stante e che stiamo facendo? stiamo adattando la parte centrale dell'immagine al blu e la parte esterna al giallo quindi stiamo facendo lavorare molti le cellule che rispondono al blu qui e le cellule che rispondono al giallo fuori siete pronti? vi ripresento ora l'immagine in bianco e nero e ditemi com'è è colorata all'opposto per una frazione di secondo e poi torna bianco e nero ovviamente perché è un'illusione quello che sto generando ma che significa? ve lo faccio rivedere ragazzi si guardate qui bastano pochissimi secondi ci siete? è abbastanza forte e perché funziona? perché ho adattato ho adattato i recettori al blu qui per cui quando do il nero quel blu viene visto verde cioè scusate ora non mi ricordo nemmeno il colorio cioè ho adattato i recettori blu qui per cui poi quando do l'immagine bianco e nero viene spinta verso i colori rosso verde e la stessa cosa la possiamo fare per il tempo guardate un attimo questo vi presento due stimoli e sono della stessa durata continuate a guardare in questo al centro oh oh perché non va? lo stimolo lo stimolo 1 e lo stimolo 2 sono uguali ora continuate a guardare qui vi sto adattando un pezzettino di campo visivo perché guardando qui voi di fatti sulla vostra sinistra avete questo stimolo che dura tantissimo e quindi tutti i neuroni visivi si stancano alla fine verranno ripresentati due stimoli uno e due quale dura di più? il secondo eppure erano uguali quindi significa che questo stimolo che durava 600 millisecondi semplicemente perché in quella parte di spazio c'era un altro stimolo che durava di più io l'ho visto un pochino più breve ho contratto il tempo e a questo punto uno si può chiedere ma e perché sono i recettori della retina che si sono adattati i recettori della testa o questo stimolo deve essere in quella posizione nel mondo esterno capite cosa voglio dire questo adattamento del tempo cioè questo adattamento visivo che mi genera una compressione anche del tempo percepito quindi del fluire del tempo come sono fatti questi meccanismi sono solidali col mondo esterno tipo è il semaforo se continuo a fliccherare io poi lo vedrò che dura meno indipendentemente da dove guardo o invece semplicemente perché sto veramente utilizzando quel pezzo di retina che risponde meno bene abbiamo fatto questo esperimento non vi sto a a annoiare con i dettagli vi do solo il risultato finale è che abbiamo misurato il tempo percepito quando era adattato questa parte di spazio e ovviamente succede che il tempo che di solito è di 600 millisecondi viene visto di 450 millisecondi ora 150 millisecondi di riduzione di tempo vi può generare dei grossi guai i tempi di reazione il tempo più corto che noi tipo durante pericolo in macchina una frenata noi ci mettiamo 150 millisecondi a frenare quindi qui abbiamo ridotto di 150 millisecondi la durata di uno stimolo bene poi che abbiamo fatto abbiamo adattato sempre in questa posizione ma abbiamo spostato l'occhio da questa parte e testato questa posizione di nuovo bene in questo caso di nuovo una riduzione ma nessun'altra parte del mondo viene ridotta cioè ho cambiato la mia percezione di tempo solo per quella parte di mondo visivo e solo per quell'oggetto quindi questi orologi sono sensibili alla posizione nel mondo esterno quindi uno non deve pensare al tempo nella nostra testa come un unico orologio che scandisce il tempo costante questo tempo può variare quindi il secondo può diventare mezzo secondo o due secondi quindi non è preciso inoltre posso variare un orologio quindi una posizione e mantenere gli altri costanti quindi nella nostra testa io ho tanti orologi che funzionano tutti insieme che monitorano il tempo insieme e che forse anche in una maniera caotica posso farli diventare caotici e questa la cosa interessante è che questi sono solidali alla posizione dell'oggetto nel mondo esterno perché dico questo dico anche che noi possiamo andare a alterare quella piccola area che noi avevamo visto che era solidale che rappresentava lo stimolo nel mondo esterno con questa tecnica che si chiama TMS significa dare semplicemente dei piccoli elettroshock piccoli piccoli in quel posto in modo da alterare l'attività elettrica si fa normalmente in medicina tipo per capire se ci sono dei problemi di conduzione dei nervi per esempio bene quando facciamo questo e chiediamo al soggetto ma come è il tuo tempo percepito è alterato è fortemente alterato quindi probabilmente tutti questi orologi che funzionano insieme sono risiedono oppure sono legati all'attività di questa piccola area nella corteccia medio-temporale ok quindi che cosa vi ho detto finora proprio riassumento che noi abbiamo un senso di direzione di localizzazione dello spazio che il cervello costruisce a ogni movimento sostanzialmente e la costruisce solidale al mondo esterno e che questa mappa dello spazio porta con sé anche una misurazione del tempo vediamo che ore sono così vado avanti brevissimamente per quella che era la parte un pochino più interessante forse di questo talk perché poi vi parla del numero comunque questa mappa è una mappa grossolana non ci può aiutare nella visione per aiutare nella visione noi dobbiamo proprio unire l'informazione visiva da una saccade all'altra proprio come fare un ponte ora fisso qui e vedo la signora poi fisso lì e continuo a vedere la signora io devo unire quelle informazioni perché faccio troppe saccade al secondo saccade sono questi movimenti vicini dell'occhio quindi in qualche modo devo utilizzare una compensazione in linea del problema e questo è quello che probabilmente viene fatto e viene fatto in una modo abbastanza non perfettamente allineata col movimento allora vi faccio capire perché se io fisso in questa posizione e poi presento uno stimolo e poi faccio una saccade se questo stimolo è presentato brevissimamente appena prima della saccade il soggetto non lo vede lì ma fa degli errori enormi questo si è fermato fa degli errori enormi e questo stimolo di fatti scusate uno stimolo in questa posizione viene visto al punto finale del futuro direzione dello sguardo di fatti abbiamo errori enormi perché questi errori perché mentre il cervello cerca di compensare per il movimento non riesce a farlo esattamente con la velocità con cui si muove l'occhio e lo fa un po' prima allora dice non fa niente se faccio degli errori l'importante è che riesca a farlo allora noi studiando quegli errori possiamo anche capire com'è fatto questo meccanismo e di fatti noi abbiamo visto tempo fa che se presento degli stimoli in tutta questa posizione dello spazio questi stimoli vengono sempre percepiti a questo punto quindi come una compressione dello spazio perché c'è questa compressione dello spazio? perché nella testa succedono cose veramente strane succede che i neuroni appena di effettuare questa saccade cambiano forma questo ve lo tolgo se no sono un po' indietro devo tagliare un po' succede che i neuroni dell'aria visiva che di solito rispondono a uno stimolo nella posizione della retina appena prima di fare una saccade invece di rispondere a questa posizione rispondono già alla posizione che avranno in futuro quando la saccade è finita e che succede? quindi prima io sto fissando in questa posizione voglio fare una saccade in questa posizione questi neuroni rispondono se prima rispondeva la signora allora rispondono alla borsa poi io finisco la saccade e continueranno a rispondere alla borsa difatti quello che succede è che io riaggiorno già le posizioni prima di fare la saccade in modo che poi per tutta la durata della saccade posso continuare a guardare la borsa o il campanile quindi ho dei campi recettivi che sono appunto la posizione dello spazio e dello stimolo in cui questi neuroni rispondono che in qualche modo compensano per questo movimento bene questa compensazione dura tanto e questa porta alla compressione dello spazio non posso entrare ora perché sono veramente un pochino in ritardo la cosa che però abbiamo visto che è interessante è che se uno invece di chiedere dove è visto l'oggetto uno presenta due oggetti e chiede quant'è la separazione nel tempo di questi due segnali anche in questo caso se questi segnali sono presentati prima del movimento oculare faccio enormi errori se prima di solito il segnale è separato da 100 millisecondi di solito appena prima della saccade lo vediamo di 50 millisecondi quindi è una compressione dello spazio perché tutto viene centrato a quello che sarà la futura direzione dello sguardo è una compressione del tempo e la cosa incredibile che noi ci ha sorpresi molto è che se noi chiediamo ma l'errore che facciamo nello spazio e l'errore che facciamo nel tempo sono indipendenti no se uno stimolo lo vediamo spostato nello spazio lo vediamo anche alterato come tempistica come tempo quindi sembra che è lo stesso meccanismo che genera questi due errori che è proprio questo meccanismo che tenda di risistemare le cose prima ancora di fare il movimento oculare ovviamente questi per i ragazzi non so se voi a che anno siete se avete mai studiato fisica ovviamente l'analogia con la relatività è forte perché ogni volta che abbiamo io non so se i ragazzi ne sanno o non ne sanno però di fatti se avete un osservatore fermo spazio e tempo ortogonale se avete un osservatore che cammina velocissimamente vedete una contrazione dello spazio e una contrazione del tempo e questo ci fa sognare un po' poi non sappiamo se è vero se il cervello è limitato come è limitata la fisica da una trasmissione di informazione non lo sappiamo però c'è un'analogia però possiamo dire l'analogia nella relatività viene fuori perché è proprio il metro che cambia cioè se l'osservatore si muove velocemente il metro l'unità di misura cambia ma non è che cambia anche l'unità di misura del cervello e come si fa a misurarla e questa non è facile ora l'unità di misura che cos'è la quantità per il cervello e di fatti come diciamo che queste sono ciliegie rosse diciamo anche subito che sono quattro sì forse sbagliamo possono essere cinque o tre però istintivamente sono quattro non diciamo mai che sono venti è come se noi avessimo dei neuroni dei meccanismi che sanno che cos'è il numero sostanzialmente e allora se esistono questi neuroni che sanno che cos'è il numero li devo anche adattare e alterare il numero facciamolo questo di nuovo guardate sempre il puntino rosso sono dei pallini sono uguali esattamente lo stesso numero di pallini a destra e sinistra e infatti è lo stesso disegno ora continuate a guardare qui sulla sinistra io presento tantissimi pallini o quadratini quindi sto adattando a un'alta numerosità di oggetti qui sulla destra pochi continuate a guardare un po' due secondi ora vi ripresenterò esattamente gli stessi disegni che vi ho mostrato prima ci siete sono uguali questi che erano adattati a tanti sono meno sono andati via poi riappaiono sono andati via ma allora che significa cioè questo significa che noi non vediamo quello che c'è noi vediamo quello che abbiamo nella nostra testa che noi ricostruiamo la nostra visione e beh allora che succede se io faccio questo esperimento durante una sacca e ho compresso il tempo ho compresso lo spazio ho comprimo anche i numeri beh quello che abbiamo fatto è di fatti questo lo salta abbiamo fatto lo stesso esperimento di prima presentevamo dei pallini e il soggetto doveva dire 5, 10, 15 quanti erano e questi sono i risultati di nuovo quando lo stimolo è presentato appena all'inizio del movimento saccadico c'è una riduzione del 40% dei numeri quindi sembra che all'inizio della saccade noi perdiamo comprimiamo lo spazio comprimiamo il tempo ma probabilmente perché abbiamo compresso il nostro senso di grandezza ora la cosa interessante è che queste tre cose quindi la compressione dello spazio del tempo e dei numeri succedono sempre con la stessa dinamica come se fosse un unico meccanismo responsabile di questo possiamo spingerci siccome la dottoressa Smacchi prima parlava appunto delle nostre abilità di apprendimento no? basandoci sulle numerosità poi apprendere il concetto di matematica non è proprio sempre immediata anzi ci sono delle patologie soprattutto nei bambini nati pretermine in cui i discalculici in cui non apprendono mai queste proprietà di formali di matematica o di aritmetica qui abbiamo fatto semplicemente chiedevamo al soggetto un compito più complesso simbolico dovevano fare la somma dei numeri e non è che il risultato se quei numeri sono presentati appena prima della sacca dei cambi beh sì anche in quel caso le somme le differenze se sono presentate se vengono calcolate appena prima della sacca quindi non è la presentazione dello stimolo è proprio il calcolo mentale che dobbiamo fare succede che si sbaglia si sbaglia del 5% quindi che cosa io spero sono il messaggio che voglio dare sostanzialmente è che quello che probabilmente nella nostra testa e questo vi faccio vedere un cervello appiattito dell'uomo e della scimmia quindi questa è tutta la corteccia cerebrale c'è probabilmente nella nostra testa una regione corticale che in qualche modo rappresenta lo spazio il tempo e i numeri e probabilmente questa regione è in quest'area parietale bianca e probabilmente la sacca deve effettuare il movimento oculare va a interferire direttamente con questa regione e perché? perché deve in qualche modo poi rimodulare deve ricompensare il movimento perché noi non possiamo permetterci di perdere informazioni ogni volta che facciamo la sacca e noi dobbiamo continuare ad accumularla ed elaborarla quindi la cosa che voglio concludere è che la nostra percezione è una percezione estremamente adattativa e plastica e che la percezione dello spazio e del tempo del numero è plastica cambia secondo il task cambia secondo gli altri eventi visivi che sono intorno secondo il nostro movimento motorio o il movimento oculare e che probabilmente questi cambiamenti si basano tutti su questo senso di metrica che il cervello ha da qualche parte nel cervello e che ci serve poi per localizzare lo stimolo nello spazio e nel tempo e con questo io ho finito così lascio un po' di spazio alle domande e voglio più principalmente ringraziare tutti i ragazzi del laboratorio che come vedete sono tanti che lavorano con noi a Pisa ho finito un po' prima perché so che i ragazzi devono uscire Pisa Morrone quella di non usare un linguaggio adeguato credo che sia sfatata perché diciamo ha usato un linguaggio comprensibilissimo il problema la prima domanda forse ci provo io a farla perché non restano tracce di questo sul nostro cervello no tracce tracce ogni volta che muoviamo gli occhi ne restano e probabilmente la traccia quello che resta va a costruire la nostra memoria memoria visiva memoria e quindi quella parte resta ed è lì diciamo il punto importante è ogni volta che io rappresento questo spazio anche nella mia memoria e probabilmente lo faccio anche con questi meccanismi il problema è che a un certo punto la dovrò cancellare perché appena esco fuori la mia memoria deve essere totalmente diversa quindi le tracce le devo accumulare finché ne ho bisogno e qui è tutta l'interfaccia della visione poi col tasche e così via cioè col compito come per tracce momentane tracce momentane tracce tracce staglie da rilevare attraverso le carismi no allora tracce no no tracce su questa su stiamo parlando di fenomeni di base della visione quindi quelle non le troviamo però poi il momento in cui diciamo tracce le troviamo quando poi queste aree non funzionano più opportunamente tipo l'area quella dei numeri si pensa che per esempio quando quest'area che rappresenta il numero abbia qualche piccola lesione questi sono è associato ai casi di discalculia quindi soggetti discalculici probabilmente hanno delle piccole lesioni nelle aree parietali quella se vuole la puoi chiamare traccia e i discalculici questo si sa è anche importante non è che si nota la discalculia solo quando si chiede di sommare i due numeri ma anche quando si dice quelle ciliegie sono cinque o sono quattro e si chiede con quanta precisione riesce a fare il senso approssimato di numeri anche quello non sanno fare quindi le due cose o lo fanno peggio diciamo così camminano insieme sì io sapevo che molte delle informazioni visive vengono diciamo aiutate nel cervello dalle informazioni che vengono dagli stimoli posturali per esempio io la testa girata so che lei è comunque davanti a me anche se io la vedo la mia testa i muscoli del cuore vanno i messaggi che ho la testa girata in questo modo volevo sapere se sono state utilizzate interazioni tra questi piccoli che sono dati da un messi accadici e i messaggi sì sono stati studiati e non è ancora molto chiaro è una domanda molto pertinente e mi permette anche di rettificare quello che ho detto nell'usare un linguaggio facile ho parlato di spazio topico posizione dello stimolo nel mondo esterno avrei dovuto dire cranio topico perché è solidale alla posizione del mio cranio ok lì c'è un passaggio in più per dirlo nel mondo esterno dovevo tenere conto anche della posizione del mio corpo sì sono cose molto complicate esistono le interazioni non è che ne sappiamo tantissimo purtroppo purtroppo no però per esempio per quanto riguarda il cranio se uno deve localizzare la sorgente acustica e fa un movimento della testa il problema è totalmente analogo a quello dello stimolo visivo e fa un movimento degli occhi e quindi anche il sistema acustico poi ricompensa tutte queste cose cioè a pensare cioè hai un priming si dice cioè tu sai che lì c'è la porta anche senza vederla o prima il fatto della bottiglia questo significa che nella tua testa tu qualche quell'immagine in periferia anche senza darci coscienza l'hai ripresa e l'hai incamerata ok per cui poi quando ci torni con lo sguardo direttamente hai questa informazione che ti aiuta e quindi da qualche parte nella nostra testa c'è questa memoria breve o memoria di lavoro che accumula queste cose e poi ti aiutano dimmi cioè quando stimoliamo troppo il nostro sistema percettivo io credo che più si stimola più si imbara questo non c'è nessuna non c'è il rischio di stimolarlo troppo c'è il rischio di stimolare troppo ecco c'è il rischio di stimolarlo troppo in alcune situazioni particolari che sei ai limiti per esempio quando sei in una luce stroboscopica non so se avete presente cos'è i flash continui quelli della insomma della discoteca dove vedete il movimento lento quella è una conseguenza di quella luce stroboscopica ecco lì state adattando di fatto pesantemente tutti gli altri detettori di movimento per cui quando andate subito fuori e vi viene una macchina forse sbagliate a percepire la vera velocità per esempio quindi sicuramente l'adattamento è un meccanismo che ci permette di vedere meglio lo stimolo più frequente tu adatti tutti i movimenti per vedere ancora meglio quel flicker della luce stroboscopica della discoteca però poi c'ha le conseguenze che vedrai deformati altri stimoli ti torna? per cui è bene stimolare tanto ma in una maniera molto varia mai la stessa cosa eh se fai delle lesioni nella testa non ci vediamo più se tu fai una lesione nell'area primaria e vedi è quello che viene detto hai un soggetto ebbianoptico vede tutto un gambo grigio nero e cieco lo stesso sulla retina per esempio dovete stare attenti a non esporvi a luce molto forte perché la retina stessa si può danneggiare il fotorecettore si può danneggiare è sicuramente imperfetta ora per questo problema di stabilità visiva sicuramente imperfetta però i casi in cui crea i problemi sono pochi perché lo stimoli del mondo esterno sono stimoli molto lunghi per cui gli stimoli in laboratorio dove noi vediamo tantissimi errori è perché sono brevissimi quindi vanno presi proprio on the fly si dice proprio mentre succede siccome lo stimolo invece è stabile dura poco non ci dà problemi però ci sono altri casi in cui abbiamo problemi per esempio lo dico guidare nella nebbia guidare nella nebbia non è il problema che si vede basso contrasto è il problema che si altera la velocità la velocità ci sembra sempre più lenta non so se qualcuno ha mai sciato nella nebbia è terribile no? si sembra che si va pianissimi invece si va sempre alla stessa velocità no? e quindi in questo senso si ha ragione è molto imperfetta è il meglio che può fare il nostro cervello il bambino vede come l'adulto? no 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 questi si ora arrivo a te questi 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 meccanismi di stabilità percettiva per esempio si è visti che non sono ancora complete a 12-13 anni è tantissimo tardi poi il bambino piccolo piccolo vede proprio il neonato vede in una maniera molto diversa da noi perché vede solo contrasti molto forti il massimo non vede colori ci mette quattro mesi a cominciare a percepire e distinguere i colori e c'è questo il movimento un bambino raggiunge la sensibilità dell'uomo adulto verso i 5-6 anni quindi c'è tutta una via di sviluppo che poi sono le cose importanti anche per la scuola estremamente importanti anche per la scuola io volevo sapere abbiamo detto che il cervello dice il stimolo di informazioni dall'esterno cambia le gestioni dell'artista ma perché però il cervello si blocca quando si trova davanti alcuni stimoli che per esempio anche di vivo ma ci sono quelle scelte in cui c'è una persona che sta avesse nel vestito da un'auto e guarda l'auto senza spostarsi e continua a guardare e permane se si investita perché allora c'è il cervello che ha deciso il stimolo di estero perché a quel punto il nostro quello è proprio tipico del senso del tempo il fatto che quando siamo in pericolo sembra che il tempo si fermi giusto? è questo che mi stai dicendo? sì e quello purtroppo perché così perché in quel momento si sembra che il nostro tempo io ho parlato di tempi sotto il secondo qui stiamo parlando di tempi molto più lunghi di decine di secondi che sembra che usino meccanismi diversi è perché il tempo noi lo monitoriamo dalla quantità di informazione che abbiamo quindi in quel momento tu stai elaborando informazioni interne non esterne e quello ti porta a un'illatazione del tempo questa è la spiegazione che si dà a volte non succede è perché come diceva prima il Signore noi la nostra visione la nostra percezione è illusoria e dipende dal contesto perché quello che tu vedi in quel momento non è la realtà fisica quello che tu vedi in quel momento è l'elaborazione interna della realtà fisica che può essere sempre diversa dalla realtà fisica ti torna e quindi perciò la riesci a alterare o sfortunatamente a volte la alteri no no ce ne sono tanti 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 altri il cavallino ma il daltonismo sì come vede un daltonico è difficile immaginarselo anche se sappiamo molto del daltonismo questa è una pagina molto bella della visione faccio un esempio il cavalluccio marino noi abbiamo tre tipi di coni per cui tre tipi di coni vediamo un certo numero di colori li distinguiamo il cavalluccio marino se non mi sbaglio nove ha una ricchezza cromatica che noi non riusciamo mai nemmeno a immaginarci così come non ci immaginiamo chi ha solo due coni e quindi daltonico lui confonderà per esempio i rossi con i verdi però noi non riusciamo a capire effettivamente questo percetto interiore perché è proprio una ricostruzione interna totalmente diversa sappiamo dire che cosa lui sbaglia che cosa convonde ma non proprio la ricchezza cromatica di un daltonico sì buonasera arrivederci tre allora probabilmente sono tre c'è sicuramente una mappa che è legata alla retina che è quella che proprio ci fa vedere che questo bordo di questo contrasto che ci fa vedere i dettagli piccoli quella c'è la v1 le aree occipitali primarie funzionano su quella mappa poi c'è una mappa spaziotopica e poi c'è sicuramente la mappa in memoria che può fare molto la mappa in memoria sembrano separate e beh le strutture coinvolte sono separate diciamo così questo è tutta un'altra cosa ma rispondo nel senso che quello che sappiamo del sogno e della visione è questo ora di nuovo un po' approssimativo e che ogni volta che noi sogniamo che tra l'altro durante il sonno REM noi muoviamo gli occhi che è una delle particolarità noi in qualche modo riattiviamo probabilmente già stazioni non la reti ma già i nuclei del talamo e la corteccia visiva riattiviamo quei stessi neuroni e l'attività di questi neuroni ci fa poi rivedere tutto quindi se li riattiviamo abbastanza diciamo con molta discriminazione vedremo anche i colori allora il cieco segnerà sempre colore se non ha mai visto se è un cieco congenito no se è un cieco congenito lui non ha idea dello spazio probabilmente quella mappa di memoria è molto diversa anche per i suoni si si fa essere così precisi per gli animali in conto non avendo questa è la bellezza si fa che diciamo sull'uomo usiamo tecniche di risonanza di imaging quelle che ho fatto vedere brevemente che non sono tecniche molto precise sull'animale scusate sull'animale hanno l'hanno fatto misurando con l'elettro dei singoli neuroni e quella è una meta-analisi di tanti dati in letteratura perché si è visto per esempio che i neuroni che rispondono ai numeri sono nelle aree frontali queste aree parietali diciamo ogni volta che infatti è molto spesso l'animale che ci guida perché sull'uomo è più difficile lavorare animale sveglio animale che fa un task cooperante su alcuni aspetti di base diciamo il problema dell'animale è che per fare questi esperimenti lo devi allenare quindi forse hai ultra allenato e quindi c'hai dei dati ultra puliti però di solito no ora le nuove tecniche permette di registrare un topolino mentre gira nella stanza e di sapere esattamente come risponde quindi ora cominciamo veramente ad essere sofisticati in questi studi sull'animale riguardo la faccenda di aree celetali le aree che rispondono alla percezione immediata di cumulosità e invece le aree attivate durante un calcolo anche un pochino complesso una somma o simbolico diciamo sono le stesse aree o perlomeno non sono i stessi neuroni sembrano che siano neuroni cioè i neuroni per la numerosità sembrano in posizioni vicine a quelli che rappresentano la quantità simbolica ma non sono le stesse ovviamente nella quantità simbolica c'è tutto il circuito della lettura ovviamente riconoscere il carattere e poi associargli un valore e quelli sono tutti altri circuiti di cui non ne ho parlato proprio grazie 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 grazie